Buongiorno, sono Alice della Beb Immobiliare e oggi vi parlerò di un immobile situato a Piano del Sole in Viatro Nero. Quella che vi proponiamo è una bellissima e luminosissima villa di circa 150 metri quadri immersa nel verde. Per quanto riguarda il piano terra, è composta da un ampio salone doppio, con una cucina abitabile a vista, che si apre su un giardino di circa 100 metri quadri. Per quanto riguarda il primo piano, vi sono due camere matrimoniali, una cameretta e due bagni. L'immobile è dotato di pavimento radiante ed è presente un posto auto. Compra la casa dei tuoi sogni come se fosse un affitto. Potrai pagarla a soli 550 euro al mese. Se non siete interessati a questo immobile, abbiamo un'offerta per voi. Porta un amico e riceverai un bonus di 5.000 euro. Questa offerta consiste nel portare un vostro amico ad acquistare una casa da noi e voi riceverete in cambio un bonus di 5.000 euro.